Perché vedete questa schermata di questo telefono? Sì, ho cambiato telefono. Purtroppo quello che avevo si è scassato del tutto. Non ho potuto fare niente. Ora se riesco ve lo faccio vedere. Allora devo andare su fotocamera. Ed era proprio il telefono dove avevo Minecraft. Quindi pensate che sorta di perdita c'è. Allora, se riuscite a vedere questa è la mia mano. Ok, questo è il telefono. Ecco. Qua sopra avevo Minecraft. Ok. Quindi io purtroppo avevo fatto un video a tipo a marzo dove dicevo dovevo fare queste nuove serie. Dobbiamo fare tante cose. Purtroppo non potranno uscire. Avevo preparato un sacco di cose. Avevo preparato i mondi. Avevo preparato... Poi non immaginavate il lavoro. Il lavoro che stavo facendo io sui mondi. Avevo preparato in vanilla. Nella vanilla avevo fatto delle costruzioni enormi che volevo... Volevo farvele vedere. Il fatto è che non posso. Poi avevo preparato altri mondi con delle arene. Con... Un sacco di cose. Ma tante, tante, tante. Tante, veramente tante cose. E no, e no, e no. Veramente vi giuro tante, tante cose che stavo preparando. Boh, tanti video. Ma proprio tanti. Non immaginate il lavoro che stavo facendo. Stavo con il mio amico lì a montare arene. Arene cercando mod. Doveva uscire una mod. Quella di... Dei minion. E non uscirà più. Forse quando compriamo il telefono nuovo. Forse cercheremo di ricostruire qualcosa del genere. Io avevo chiesto al mio amico di salvare qualche costruzione del mondo. Ora non so se ha salvato. Però la serie che vi avevo promesso. Quella della... Quella della... Della cosa. La serie che vi avevo promesso. Come si chiamava? Quella... Che eravamo bambini. Quella lì la faremo. Però più in là, ecco. Quindi uscirà verso settembre. Quei mesi in là. Comunque porterò un po' di giochi tipo questi. Tipo Scolpisci, Tamago, Roblox. Cercherò comunque a luglio, ad agosto, comunque di darvi compagnia portando qualche gioco. Per ora uscirà qualche video di Minecraft già preregistrato. Ma poi... Se avrete notato... Se avete notato che ad un certo punto ho messo un video dove praticamente... Una... Come si... Una premiere. Era un errore. Poi l'ho cercato di aggiustare. Comunque l'ho aggiustato. Ora non so che video era. Mi pare quello di Simpson, appunto. Che uscirà poi a luglio. Quindi... Sì, me l'hanno fatto ricordare i miei amici. Perché comunque su YouTube non è che ci sto molto in questi ultimi giorni. Vabbè. Ora vi devo salutare perché è quasi mezzanotte. Io devo dormire, minchia. Anche se domani non ho scuola. Però comunque io dormo. Quindi iscrivetevi al canale. Lasciate un mi piace. Da volta che è tutto... Aiutatemi, aiutatemi sul serio. Perché vabbè questa volta non l'ho presa brutta. Perché ho detto vabbè, minchia. Compro l'altro telefono. Tanto sono già preregistrati miei. È a voglia. Ora vi faccio uno spoiler. Se lo riesco a trovare. Questo è un mega, mega... No. Eh no. Eh no. Questo è un mega... Mega spoiler che vi sto facendo. Vi sto facendo vedere molti video che usciranno a lui o a mamma mia. Questo vi giuro che se vi faccio questo spoiler... Non so. Ecco. Questi qua sono usciti... Questi qua sono quelli che dovrebbero uscire. Sono pochissimi. Io ho poco tempo per registrare nuovi video. Quindi questo... In questa settimana mi darò molto da fare. Anche perché questi sono quelli di luglio. Mi darò molto da fare. Anche di... Se vedete qua siamo un gas. Stavo preparando un mondo enorme. Stavamo facendo costruzioni, torri. Purtroppo è andata così. Poi... Col tempo poi... A voglia. Quindi ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace. Io parlavo di questo video. Da... Vedi questo qua deve uscire... Tumori. Quindi... Allora dovremmo vedere. Ehm... Adesso... Adesso... Non lo conosco a tutti. Un po' di video. Grazie a tutti. Grazie a tutti.